ed eccoci alla seconda ed ultima parte dedicata alla simulazione di esame del liceo scientifico del 2019 questa volta come annunciato nel primo video mi dedicherò soltanto dei quesiti dal quinto all'ottavo cioè di quelli di fisica facendo una eccezione per il problema di calcolo delle probabilità infatti i problemi di calcolo delle probabilità mi sembrano più vicini alla fisica che non alla matematica ti ricordo di iscriverti al canale per essere avvisato quando pubblicherò la soluzione commentata al prossimo vero esame di giugno il quesito numero 5 è dedicato al calcolo delle probabilità emma fa questo gioco lancia un dado con facce numerate da 1 a 6 se esce il numero 3 guadagna 3 punti altrimenti perde un punto il punteggio iniziale 0 qual è la probabilità che dopo quattro lanci il suo punteggio sia ancora 0 qual è la probabilità che in una sequenza di 6 lanci il punteggio non scenda mai sotto lo 0 iniziamo con la prima domanda con l'evento a con il primo e ci chiede ripetiamo la probabilità che dopo quattro lanci il suo punteggio sia ancora 0 questo dado a 6 facce ma in realtà ai fini di questo gioco importa soltanto se la faccia mostra 3 oppure no quindi il fatto che occorre eseguire quattro volte la stessa operazione e ciascuna di queste operazioni in fondo ammette due risultati dovrebbe suggerire l'idea che di mezzo per ottenere la probabilità dell'evento ci sia la distribuzione binomiale e tra un po' vedremo che apparirà ma procediamo con ordine come si fa dopo quattro lanci di questo dado ad avere ancora un punteggio pari a 0 ciò si ottiene vincendo una volta quindi deve apparire una volta il numero 3 e perdendo negli altri lanci ma se ciò non si vede facilmente allora si possono impostare due equazioni per ottenere quante volte bisogna vincere e quante volte bisogna perdere in modo da ottenere il punteggio 0 allora indichiamo con v il numero di volte che si vince cioè il numero di volte in cui appare il 3 con f il numero di volte in cui si perde f sta per fallimento f e v sono naturalmente numeri naturali la somma di v più f primo quesito vale 4 il punteggio si ottiene moltiplicando il numero delle vincite per 3 e sottraendo il numero delle sconfitte dei fallimenti perché per ciascun fallimento si perde un punto e il punteggio in questo caso vale 0 se risolvete questo sistema di equazioni si trova appunto che v vale 1 ed f uguale a 3 ora quanto vale la probabilità di questo evento io qui ho rappresentato in queste parentesi quadre tutte le possibili sequenze di quattro dadi con una vittoria e tre sconfitte che verificano l'evento al punto a e quindi significa avere una vittoria e tre sconfitte oppure una sconfitta una vittoria e due sconfitte e così via quindi abbiamo quattro possibilità quanto vale la probabilità che appaia ciascuna di queste sequenze la probabilità è la stessa per ognuna di esse un sesto la probabilità di avere successo per la probabilità di non avere successo elevato a 3 questo prodotto può essere posto anche in quest'altra forma se eseguo questi facili calcoli arrivo a questo risultato ti voglio mostrare un'altra possibilità che ci potrà essere d'aiuto più tardi facciamo uso del cosiddetto diagramma ad albero per enumerare tutti i possibili risultati a destra è mostrato il cosiddetto diagramma ad albero che elenca tutte le possibili uscite del gioco durante i quattro lanci il primo il secondo il terzo il quarto lancio questo diagramma si legge da sinistra verso destra il cerchietto con il 3 denota l'uscita del 3 dopo aver gettato il dado il cerchietto vuoto invece denota un fallimento la sconfitta cioè non è uscito il 3 allora vediamo quali sono le possibili sequenze questo nodo questo punto tutto a sinistra è la radice dell'albero primo lancio può uscire il 3 oppure non esce il 3 dopo che è uscito il 3 proseguiamo con il secondo lancio e può uscire di nuovo un 3 oppure non esce un 3 e così via abbiamo visto in precedenza che l'uscita del 3 la vittoria avviene con probabilità p invece la sconfitta avviene con probabilità q e p più q sommati fanno 1 è importante che qui si riconosca che non vi sono più di due possibilità o si vince o si perde quello che interessa ai fini della domanda è avere un una vittoria e tre sconfitte e questa si ottiene attraverso per esempio questo percorso una vittoria una sconfitta una sconfitta e una sconfitta oppure quest'altro caso che abbiamo trovato prima ed è una sconfitta una vittoria una sconfitta una sconfitta e poi gli altri due un'altra cosa importante in questo tipo di diagramma ad albero è la probabilità con cui si verifichi un determinato percorso sull'albero per esempio il percorso pqqq ha una probabilità che è il prodotto delle probabilità dei singoli rami per cui la sequenza 3000 ha una probabilità di verificarsi che è p per q al cubo quest'altro percorso invece si verifica con una probabilità p al cubo ancora è la stessa i rami compatibili con l'evento che ci interessa cioè un punteggio finale uguale a zero sono quattro per cui è la somma di quattro probabilità identiche come abbiamo visto poco fa questo diagramma ad albero non era necessario disegnarlo per rispondere a domanda precedente lo avevamo già fatto però tra un po ci tornerà utile per risolvere il secondo quesito prima però voglio mostrarvi un altro metodo che è il cosiddetto metodo dell'ignorante questo metodo funziona sempre e non occorre sapere praticamente nulla ciò che conta è effettuare davvero quel gioco quante volte tantissime volte e vedere dopo quattro lanci quante volte si riesce a terminare il gioco con un punteggio uguale a zero si fa quindi la divisione tra il numero di volte in cui si è terminati con un punteggio uguale a zero con il numero totale dei lanci e quella la probabilità quanti lanci bisogna fare per avere una stima buona tantissimi naturalmente potremmo farlo a mano ma saremmo dei pazzi se lo facessimo c'è chi lo fa per noi e del computer allora queste quattro righe fanno proprio quello che ho detto poco fa eseguono n centomila lanci la variabile successo conta appunto se al termine dei quattro lanci si verifica l'evento che ci interessa questa è l'istruzione che inizia un ciclo di n volte n centomila volte per ciascuno di questi cicli quindi si eseguono i lanci dei quattro dadi uno alla volta il dado viene lanciato dado è il numero della faccia estratta a sorte tra i numeri 1 e 6 se dado se la faccia vale 3 i punti sono quelli che avevo più 3 se non è uscito il 3 i punti vengono diminuiti di 1 al termine dei quattro lanci controllo il punteggio se ho ottenuto 0 si è verificata una sequenza favorevole e l'aumento di 1 al termine stampo la probabilità il risultato è 0 38 396 che è una buona stima del numero che è uscito qui se aumento il numero di lanci riesco ad avere anche una buona stima sulla terza cifra significativa vi ricordo che esistono dei problemi apparentemente semplici ma per i quali purtroppo non esiste una formuletta non si riesce a impostare un ragionamento per ottenere una risposta però questo metodo continua ad essere valido anche in questi casi difficili e passiamo alla seconda domanda qual è la probabilità che in una sequenza di sei lanci il punteggio non scenda mai sotto lo zero questa è una richiesta che all'inizio mi ha creato qualche difficoltà di interpretazione in un primo momento ritenevo che mi avesse richiesto la stessa domanda di prima ma invece di quattro sei lanci riflettendoci meglio mi sono accorto che forse avrebbe potuto chiedere qualcos'altro e cioè non mi sta chiedendo dopo sei lanci ma durante la sequenza per cui forse vuole sapere mentre i dadi vengono lanciati e ciascuno di questi mi segna il numero 3 oppure un numero diverso dal 3 e quindi perdo se ad un certo momento di questa sequenza il punteggio totale non scende al di sotto di zero in quest'ultimo caso b nel momento in cui comincio a sommare i punteggi dei vari dadi appena il punteggio diventa inferiore a zero non si verifica questo evento quindi devo rendermi conto invece di quali sono le sequenze che fanno sì che io non scenda mai con il punteggio parziale mentre lancio i dadi al di sotto di zero potrei non essere stato chiaro a questo punto però andiamo avanti e vediamo come si risolve il problema intanto cominciamo a rispondere alla domanda supponendo che ci abbia chiesto qual è la probabilità che dopo i sei lanci il punteggio non scenda mai sotto lo zero il problema che abbiamo risolto poco fa ci viene in aiuto adesso in quanti modi al termine dei sei lanci il punteggio sia maggiore di zero imposto questa stessa equazione che ho scritto poco fa per cui il numero delle vittorie cioè delle volte in cui è apparso il numero 3 e il numero delle sconfitte deve essere 6 il numero di lanci d'altra parte il punteggio totale sarà tre volte il numero delle vittorie meno il numero dei fallimenti questo punteggio richiediamo che sia maggiore o uguale a zero qui notate la disuguaglianza prima invece c'era una uguaglianza dalla seconda equazione trovo v che questa qui la sostituisco in quest'altra e trovo questa disequazione questa disequazione mi dice che il numero dei fallimenti deve essere minore o uguale di 18 quarti ora sarebbe stupido qui fare apparire una frazione ricordatevi che f e v sono numeri naturali per cui f deve essere minore o uguale di 4 le soluzioni valide sono f uguale 4 f uguale 3 f uguale 2 f uguale 1 f uguale 0 in corrispondenza di ciascuno di questi valori il valore di v si ricava da quest'altra relazione quindi v è quello che manca per arrivare a 6 quindi se f è 4 v vale 2 se f è 3 v vale 3 e così via quindi le soluzioni qui sono delle coppie se si verifica ciascuna di queste coppie il punteggio totale sarà maggior o uguale a zero se non si verifica ciascuna di queste coppie per esempio la coppia 5 sconfitte e una vittoria il punteggio sarà negativo infatti pensiamo un po 5 sconfitte significa avere meno 5 punti aver fatto poi una vittoria fa sì che il punteggio totale rimanga ancora meno 2 quindi abbiamo perso ancora peggio se abbiamo 6 sconfitte e 0 vittorie allora notate ancora una volta o il punteggio è maggiore di zero e ciò accade con queste coppie oppure e non esistono altre alternative il punteggio è minore di zero e ciò accade con queste coppie la probabilità che appaia il 3 con l'uscita del dado è un sesto la probabilità che non appaia il 3 è quest'altra cioè 5 sesti quindi si tratta di esperimenti si chiamano binari la probabilità dell'evento che abbiamo letto nella traccia secondo la prima interpretazione è la somma di questi termini il primo termine è la probabilità di avere la coppia 6 0 quindi 6 vittorie e 0 sconfitte e la probabilità è più alla sesta per q elevato a 0 e questo coefficiente ci dice quante volte quella sequenza apparirà nel diagramma ad albero se vi ricordate più la probabilità di ottenere la coppia 5 vittorie 1 sconfitta che avviene con questa probabilità ma pare diverse volte quante volte 6 su 1 vi ricordate che 6 su 1 significa 6 fattoriale diviso 5 fattoriale 1 fattoriale che significa 6 volte e poi devo continuare a sommare la probabilità che accadono queste altre coppie quindi devo eseguire questa somma eseguire questi calcoli è estremamente noioso prima di imbattervi in queste somme provate a vedere se c'è qualche scamottaggio per semplificare ora in questa somma che è la somma di tutte queste coppie mancano queste coppie quelle due che mancano avrebbero dato una sommatoria su tutti i casi possibili se si includono anche queste due coppie la somma di questa probabilità è qualcosa che dovremmo sapere quanto vale infatti aprb questa qui se sommo queste altre due che provengono da questi casi che verificano un punteggio minore di zero non ho altro che questa somma ora siccome p più q in questo caso vale 1 allora 1 elevato a 6 fa 1 allora io ho bisogno di trovare questa probabilità non la conosco ancora ma so che sommata a questi termini mi dà 1 per cui questa probabilità è 1 meno questi due termini ed è più semplice trovare questi due termini che non la somma di tutti quanti quello che ho fatto adesso è usare un famoso teorema di probabilità che fa uso della dell'evento complementare e seguo questi calcoli e trovo 0 26 se aveste fatto questa somma avreste trovato lo stesso numero siamo sicuri di aver fatto bene allora come al solito uso il metodo dell'ignorante e lo stesso programma di prima l'unica cosa che cambia è che invece di effettuare il lancio di quattro dadi lanci 6 dadi inoltre i punti qui affinché si verifichi l'evento che ci ha chiesto nel testo devono essere maggiori di zero e seguo 100.000 lanci e trovo 0 26 251 se ho fiducia in questo metodo questa è una stima molto buona del risultato ricordatevi che questo non è un risultato esatto troviamo a rispondere all'altra domanda immaginando che io sono interessato durante i lanci del dado a non andare mai sotto zero con il punteggio e quindi devo arrivare fino alla fine senza mai scendere sotto zero in questo caso il problema si complica un po e ci sono ancora diversi metodi per arrivare alla soluzione io farò uso ancora una volta del diagramma ad albero che ho spiegato poco fa in modo da ottenere le probabilità che mi interessano qui non c'è tutto il diagramma ad albero ma sono mostrati i percorsi che mi permettono di giungere in una situazione in cui sono sicuro di verificare l'evento che ci interessa il primo lancio con probabilità p può darmi il la faccia con il numero 3 oppure no nel primo caso il mio punteggio diventa 3 in rosso sulle facce dei dadi troverete il punteggio oppure parto con meno 1 se mi trovo in questa posizione ho già perso sono sotto con il punteggio allora continuo da questo ramo e lancio il secondo dado e posso ottenere che cosa ho un altro 3 e il mio punteggio diventa 6 e già sono sicuro che da questa posizione non perderò più perché anche se perdo un punto un punto un punto un punto perderò quattro punti siccome già ne ho 6 arriverò con due punti quindi ho verificato l'evento oppure perdo un punto se perdo un punto arriverò a 2 e ancora posso continuare a giocare da qui posso vincere arrivo a 5 perché esce il 3 oppure perdo ma posso continuare a giocare tiro il quarto dado vinco arrivo a quattro punti oppure perdo ancora posso giocare perché non sono sotto tiro il quinto dado vado a 3 e da questo punto vedete ancora sono sicuro di arrivare alla fine vincerò il mio punteggio finale sarà sicuramente superiore oppure perdo e da questo momento in poi ho terminato inutile giocare può darsi che questa parte del video la devi rivedere più volte i rami che mi portano a una situazione in cui verifico l'evento sono li disegno in giallo poi c'è quest'altro poi c'è quest'altro e poi c'è quest'altro sono quattro i percorsi che mi portano in uno stato da cui sono sicuro che poi verificherò l'evento e quanto vale la probabilità di ciascuno di questi percorsi per quello che ti ho detto poco fa la probabilità è il prodotto delle probabilità di ciascun ramo che appartengono al percorso per cui i casi favorevoli sono quattro e ciascuno di questi percorsi contribuisce con il prodotto delle probabilità dei rami che lo compongono quindi p al quadrato è questo percorso quest'altro percorso è p per q per p poi c'è l'altro p per q per q per q per p e li trovi qui e segui i conti e trovo questo numero posso impostare anche qui il metodo dell'ignorante e certo quello funziona sempre ho ancora una volta lo stesso problema lo modifico un po ho sempre sei lanci l'unica cosa che controllo è bloccare il lancio dei dadi appena il punteggio scende al di sotto di zero appena arrivo sotto di zero io ricomincio una nuova sequenza di lanci vado a eseguire e trovo questo numero che è ancora una buona stima del risultato qui c'è una referenza che potrebbe esserti utile passiamo al quesito numero 6 ai vertici di un quadrato abcd di lato 2 metri sono fissate quattro cariche elettriche la carica in a è pari a 9 nanocoulomb la carica in b è pari a 2 nanocoulomb la carica in c è pari a 4 nanocoulomb la carica in d è pari a meno 3 nanocoulomb supponendo che le cariche si trovino nel vuoto determinare intensità direzione verso del campo elettrostatico generato dalle quattro cariche nel centro del quadrato proviamo a trovare i campi elettrici di queste quattro cariche nel centro per farlo occorre ricordarsi la formula del campo elettrico prodotto da una carica puntiforme io qui scrivo semplicemente il modulo di questo campo elettrico è kq valore assoluto ho detto che sono interessato al modulo r al quadrato e quindi per ciascuna di queste cariche devo determinare il vettore campo elettrico al centro proviamo a disegnarli intanto l'ho già fatto qui e c vettore c è il vettore campo elettrico della carica in c il vettore ea è quello dovuto alla carica in a sono disegnati in questo modo perché le cariche in c in a sono positive il vettore campo elettrico della carica positiva in b è il seguente e il vettore della carica negativa in d è il seguente qui noto che questi vettori sono sistemati lungo le diagonali di questo quadrato come si fa a trovare la risultante di questi quattro vettori ci sono diversi modi io ve ne mostro uno che consiste nello scegliere un sistema di coordinate sistema di coordinate naturale per questo problema che permette di risolverlo immediatamente è quello di scegliere un asse x e un asse y tra loro perpendicolari e coincidenti con le diagonali di questo quadrato a qualcuno potrebbe non piacere questo sistema di coordinate disposti in questo modo allora un altro modo per risolverlo è disegnare il quadrato non in questo modo ma ruotandolo ecco è ancora un quadrato ed è lo stesso di prima e quindi così probabilmente la visuale vi aiuta a individuare rapidamente le componenti di ciascun vettore se a tutti i costi volete farvi male si può scegliere un sistema di coordinate fatto così a questo punto dovete scomporre tutti i vettori però bisogna proprio volersi male per usare questo sistema di riferimento rimaniamo con quello che ho disegnato poco fa il centro del quadrato si trova ad una distanza r che è la metà della diagonale il quadrato al lato l e quindi r al quadrato che andrà a finire qui sotto e l al quadrato diviso 2 dopo aver scelto questo sistema di coordinate i moduli di questi due vettori li considero direttamente come se fossero le componenti nella direzione x e quindi la componente e x del campo elettrico totale non è altro che la somma dei moduli di questi due campi elettrici e trovo questo risultato che è 22.5 volt su metro al posto di volt su metro potete anche usare newton su coulomb per quanto riguarda la componente y del campo elettrico totale lungo l'altra diagonale la componente c è positiva quest'altra invece è negativa scrivete questa espressione sostituendo scoprite che è negativa questo vettore è più lungo di quest'altro e i conti erano impostati in maniera tale da far apparire e x e y identici per trovare il modulo del campo elettrico totale si usa come al solito il teorema di pitagora e si ottiene questo risultato come diretto è banale è diretto così questi due angoli spero sia chiaro sono uguali e quindi valgono ciascuno 45 gradi quindi campo elettrico è applicato al centro e diretto nella direzione perpendicolare a cd quesito numero 7 un protone inizialmente inquiete viene accelerato da una differenza di potenziale di 400 volt ed entra successivamente in una regione che sede di un campo magnetico uniforme e perpendicolare alla sua velocità la figura illustra un tratto semicircolare della traiettoria descritta dal protone i quadretti hanno lato un metro determina l'intensità di b si inventa questa griglia fatta in questo modo sembra una prova dell'invalsi il lato del quadretto vale un metro il protone entra da questa parte e segue una semicirconferenza ed esce dall'altra sappiamo che la distanza tra il punto di ingresso e quella di uscita è il diametro due volte la diagonale di questo quadratino quindi diametro è due volte il raggio ma il raggio è radice di 2 per il lato l per cui il raggio è radice di due metri allora non sappiamo quanto vale la velocità con cui entra ma sappiamo che la velocità è quella che si ritrova il protone per effetto di una differenza di potenziale di 400 volte che lo accelera per cui la differenza di energia potenziale nel cannone elettronico e questa qui supponendo che il protone parta dalla lastra da fermo allora la sua velocità finale è questa qui e quindi ricaviamo che la velocità con cui entra è questa qual è la relazione tra velocità forza di lorenz e raggio della traiettoria è la seguente questa è la forza di lorenz in questo caso v e b sono perpendicolari posso quindi passare ai moduli la forza di lorenz è lungo questa traiettoria una forza centripeta questa qui è la forza di lorenz in ogni punto della traiettoria la forza di lorenz è la stessa e punta verso il centro di questa circonferenza e l'accelerazione centripeta è questa v quadro diviso r posso semplificare una v e quindi trovare da questa relazione b il campo magnetico è questo qui vado a sostituire i valori che già conosco al posto di r qui appare radice di 2 quindi 2 semplifico 22 400 lo porto fuori mi diventa 20 devo eseguire questo rapporto i valori di questi due costanti sono fornite dalla traccia ho fatto i conti ed esce 2 millitesla quesito numero 8 si vuole ottenere l'emissione di elettroni da lastre metalliche di materiali diversi su cui incide una radiazione di frequenza 7,80 x 10 alla 14 hertz determinare motivando la risposta quale tra i materiali in elenco è l'unico adatto allo scopo e qui mostra questa tabella con il lavoro di estrazione individuato il materiale da utilizzare determinare la velocità massima che può avere un elettrone al momento dell'emissione finalmente è apparso un argomento del quinto anno si tratta dell'effetto foto elettrico la cui relazione è questa a sinistra spero abbiate riconosciuto l'energia del fotone incidente a destra trovate il lavoro di estrazione questa quantità che è l'energia perduta dal fotone e ceduta al solido al metallo e quest'altra invece è l'energia con cui emerge dalla lastre questo fenomeno può avvenire soltanto se questa quantità a primo membro hf l'energia del fotone è superiore al lavoro di estrazione altrimenti non si verifica e quindi come si risolve questo problema banalmente andiamo a trovare l'energia del fotone ma questo w è espresso in elettron volt quindi trasformo i 52 per 10 alla meno 20 joule in elettron volt basta dividere per la carica dell'elettrone che è 1.6 per 10 alla meno 19 coulomba se esegui questa trasformazione trovi questa energia espressa in elettron volt e scopri che che è superiore soltanto al lavoro di estrazione del cesio quindi con questa radiazione puoi riuscire ad espellere elettroni soltanto dal cesio e quanto vale l'energia massima con cui può essere emesso l'elettrone beh ancora una volta usi questa espressione ma l'incognita adesso è l'energia cinetica allora qui l'ho fatto l'energia cinetica è l'energia 3.2 meno 1,8 e scopro che è 1,4 elettron volt devo ancora riconvertirla in joule per cui moltiplico adesso per 1,6 per 10 alla meno 19 e ottengo 2,2 per 10 alla meno 19 joule inserisco questa quantità qui dentro al posto 10 e se non ho fatto errori si tratta di 7,0 per 10 alla 5 metri al secondo e con questo è tutto quindi non ci saranno altre simulazioni continua a studiare rivedi gli esercizi di queste simulazioni e poi a giugno ci rivedremo con le prove reali per il momento in bocca al lupo